Ciao a tutti da Saludatore, grandissima sorpresa che sarà appena presentato il libro del grande Franco Bovaio, facciamolo vedere. Eccolo. Eccolo qui, la Roma del 1974 e 75, uno spettacolo e abbiamo con noi... Massimo Inzi, storico della Roma, che è più storico oggi. Ecco, perciò noi intanto invidiamo tutti quanti a comprare questo libro perché è qualcosa di straordinario, ci fa sognare momenti magici e... In vendita sul sito Associazione Lupa Giallorossa 2018-ghiocciolalibero.it Ecco, allora noi salutiamo tutti i tifosi della Roma e tutti i tifosi dell'Associazione Lupa Giallorossa, Fede Giallorossa e tutti coloro che hanno permesso ciò. Mandiamo un saluto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao a Forza Roma, ciao.